C'è tanta amarezza per non essere riusciti a prendere nemmeno un punto oggi perché appunto anche in 10 abbiamo continuato a correre tanto però ovviamente l'uomo o meno poi alla lunga si è sentito sull'energia, sull'economia generale a livello di corsa e niente, dispiace tanto. Amarezza anche perché, Vincenzo non so se siete d'accordo con me, la Provercelli ha dimostrato di non essere una squadra irresistibile, d'altronde la classifica parla di ultimo posto, squadra che però ha soprattutto avuto, ne parlavamo anche con Pillon, un approccio diverso dal vostro, positivo rispetto a quello del Pescara. E non è la prima volta che il Pescara inizia le partite in questo modo? Sicuramente non abbiamo approcciato bene però è anche vero che a livello psicologico l'espulsione dopo pochi minuti è stato un colpo duro. Noi abbiamo provato comunque a non ritirarci più di tanto e alla lunga l'abbiamo pagato questo atteggiamento perché forse era preferibile tirarci un po' indietro e provare a portare a casa il punto invece spendendo così tante energie dopo è venuto a mancare un po' di lucidità. La classifica dice che siete fuori dalla zona play-out per quanto è successo anche i risultati degli altri campi però questo Pescara ora non può più sbagliare, siete d'accordo Vincenzo? Sì, oggi era insieme alle restanti una di quelle partite da non sbagliare e l'abbiamo persa quindi siccome c'è poco tempo dobbiamo adesso preparare subito la partita di Spezia e tutte quelle che mancano. Vincenzo, in occasione del secondo gol della Provercelli è stato Raivec a toccare il pallone o sul cross di Gatto in pratica il pallone si è insaccato in rete perché dalla tribuna non si è capito bene? Io avevo Michele dietro di lui quindi mi hanno coperto tutti e due la visuale e non devo rivedere le immagini adesso a caldo neanche io ho presente il tocco se è di testa o se è un velo. Questione di approccio si può dire oggi perché ne parlavamo con Pillon poco fa primi dieci minuti fino all'espulsione di Crescenzi sulle fasce Pescara stava soffrendo come ad esempio non ha preparato a questo quindi sono giustamente preoccupato per la situazione di classifica perché penso sia giusto che sia così ci tengo molto al Pescara e spero di fare più punti possibili il prima possibile.